Pochi giorni fa per un breve periodo sono stato a Roma, periodo brevissimo, nell'occasione ho telefonato a un amico di Facebook, Stefano Guarini, per vedere se potevamo incontrarci, vedersi. E' bello concretizzare delle amicizie che si fanno virtuali, insomma, farle diventare anche una conoscenza reale. E allora ci siamo trovati per un'ora, abbiamo preso un caffè insieme e ci siamo parlati, poi abbiamo scoperto che avevamo anche tante cose da dirci, insomma, no, il tempo non ci bastava e quindi magari si incontreremo la prossima volta e continueremo un discorso. Poi Stefano è anche amico di un amico comune, insomma, abbiamo un'amicizia in comune che è quella di Riccardo Farina ed è una persona vivace, intelligente, colta, insomma, bello, insomma. Riflettevo che è bello poi incontrarsi, no, quando si viaggia, insomma, sapere che magari c'è qualche riferimento, che abbiamo qualche amico che dal virtuale è diventato anche reale, che una volta che andiamo su un posto lo possiamo trovare, prendere un caffè insieme. Sarò a Roma anche la settimana prossima, giovedì, venerdì della prossima settimana. Magari se qualcuno che abita a Roma ha piacere che ci incontriamo, che ci vediamo, che ci conosciamo, insomma, qualcuno che in qualche modo mi segue, a me fa piacere, mi contatti, mi mandi un messaggio e magari ci diamo un appuntamento, anche insieme, mangiamo la pizza insieme, la sera, insomma, ci conosciamo. Detto questo, parlando con Stefano, mi facevo notare che, insomma, io non ho mai parlato di cinema, insomma, ho parlato molto poco di cinema, quindi pensavo che non mi interessasse. In verità non è che non mi interessa il cinema, solo che non ci vado più, o praticamente non frequento quasi più le sale cinematografiche. Mi è capitato, insomma, di procurarmi un po' di film e sono rimasto, per mia disgrazia, non lo so, per mia sfortuna, sono rimasto, o per mia fortuna, chi lo sa, sono rimasto attaccato alla cinematografia del passato, insomma, ai registi che per me sono stati importanti e di cui ho visto quasi tutto, insomma. A cominciare dalla storia del muto, poi per finire, no, per finire, per andare alla Nobel Vague francese, Romer, Truffaut, Kubrick, di cui ho visto tutto, Einstein, Einstein, Werthoff, insomma, il neorealismo italiano, al noir americano, sono rimasto molto legato a certi film di un certo tempo, Bergman, Fritz Lang, e quindi non riesco più, insomma, ad avvicinarmi in maniera attenta, in maniera, o con curiosità, al cinema contemporaneo. È un difetto, insomma, poi quando si invecchia, come dire, si è meno disponibile al nuovo e si guarda più al passato, insomma, no, la mente corre più verso, corre più indietro. Detto questo, volevo approfittare per fare questo video e quindi per parlare un po' di cinema, insomma, ma non di cinema nel senso generale, per parlare di cinema prendendo spunto un libro che parla di cinema, sotto un'ottica particolare, sotto l'ottica del filosofo. E quindi volevo un attimo approfittare per citare questo libro, che è un libro di Umberto Curi, tra l'altro ne ho una copia che mi dedica, perché ci siamo conosciuti anche personalmente con Umberto Curi, che adesso è stato professore merito di filosofia qui a Padova, e che ha scritto un libretto piccolino, ma molto denso e secondo me molto molto bello, che si intitola Un filosofo al cinema, edito dalle Bonpiani, in cui, tra i vari argomenti, insomma, lui sceglie dei film che un po' sono simboli di determinati temi che tratta la filosofia. In particolare in questo libro sono trattati questi temi, Lo straniero che ci abita, Eros e Thanatos, Le icone della duplicità, Meditatio Mortis, Morfogenesi della violenza, Donare il tempo, temi grossi, temi che hanno impegnato la filosofia di tutti i tempi. Eros e Thanatos è il capitolo dal quale volevo trattare l'argomento di questo video, cioè volevo leggere quello che lui dice a proposito di un film rappresentativo di questo tema, che è Primo amore di Matteo Garrone. Perché voglio citare questo tema e leggere questo? Perché questo film mi è capitato di vederlo e di rivederlo. Poi tra l'altro è un film che è tratto da una vicenda vera, insomma, una vicenda che è stata trattata anche in televisione ed era stato intervistato il protagonista che era incarcerato, forse scontava l'ergastro, insomma una pena molto importante, che aveva scritto appunto il libro stando in carcere dal quale è stato tratto questo film. Nello specifico questo libro si intitola Il cacciatore di Anorressi che di Marco Mariolini, perché questa vicenda aveva avuto poi uno sviluppo tragico. Il film poi, Primo amore, era interpretato da Vitaliano Trevisan, Vitaliano Trevisan che è di origine veneta, insomma, nella provincia di Vicenza. mi era capitato di incontrarlo, era venuto a casa mia quando ancora gestivamo una galleria d'arte. E quindi, voglio dire, c'è anche un po' una conoscenza diretta, insomma, sia del protagonista del film, sia di chi ha scritto questo pezzo, insomma, Curi ne fa una riflessione sull'amore, sull'amore nella concezione di Plotino, e ne fa una riflessione che voi sentite molto bella e molto interessante, quindi, diciamo, dell'amore che è un qualcosa che costruisce, che fa emergere un'idea di bellezza, di bellezza assoluta. Quindi, non di un amore vissuto passivamente, ma di un amore che trasforma l'amato e lo trasforma ricostruendolo. Ma questa ricostruzione è in qualche modo una liberazione, è un togliere invece che dare, togliere tutto quello che c'è di più, tutto quello che offusca, una bellezza che è già contenuta nell'essere amato. Quindi si tratta di liberarla, di farla emergere, di mostrarla. E ovviamente, come in tutte le cose, anche in questo discorso, c'è una cosa bella e una cosa pericolosa. Non c'è mai un unico senso nelle cose o una unica possibilità. quando si fa qualcosa si corre comunque un rischio. Insomma, si può farla bene o si può farla male. Questa cosa può produrre, può produrre un risultato di bellezza, di gioia, ma anche può produrre un risultato di morte. quindi questa ambiguità che c'è sempre nelle cose. Cioè, noi l'altro, l'amante, può trasformare l'amato, può agire sull'amato ed è la forza più grande quella dell'amore per trasformare, per liberare tutto quello che può essere compresso, imprigionato e quindi per fare in modo che l'amato possa esprimere il meglio di sé, per dargli la forza per esprimere il meglio di sé. Però nello stesso tempo c'è insito un pericolo e il pericolo ovviamente è quello di fare dell'amato la propria proiezione, di trasferire sull'amato il proprio modo di pensare, di volere, di farne uno strumento del proprio desiderio, quindi fare riprodurre nell'amato quello che noi vogliamo che sia allora in questo caso diventa un qualcosa di distruttivo, insomma qualcosa che che è un'anticipazione di morte. Bellezza è morte, amore è morte, eros etanatos, no, impliciti in questa cosa. Dipende dallo spirito che ci si mette, insomma, no? Se si vuole aiutare attraverso la forza che ti dà la passione, l'amore, insomma, un amore inteso in maniera piena, completa, capace di liberare, quindi di togliere tutti gli ostacoli che si frappongono alla libera espressione, alla libertà, quindi, no? Dell'essere amato oppure un amore che impone la propria visione, la propria presenza, la propria, che quindi si proietta sull'amato per trasformarlo come vogliamo noi. E quindi, in questo senso, l'amore diventa un amore distruttivo che priva di libertà e che quindi non ha sbocco. Libertà, no? offerta, occasione di libertà oppure costrizione, prigione, assenza di libertà. Tutto si gioca nello spirito con cui si gestisce questo sentimento, questo rapporto a due. E allora sentiamo cosa dice, insomma, come ci descrive questo film e come ci invita a guardare questo film se ci capita di vederlo, di guardarlo, insomma, Primo amore di Matteo Garrone, cosa dice in questo libro un filosofo al cinema, Umberto Curi. Se non ti vedi ancora bello, opera come opera lo scultore con una statua che deve diventar bella. Da una parte elimina, dall'altra sottiglia, qui leviga, li ripulisce, finché sulla statua non appare un bel volto. Così anche tu elimina ciò che è superfluo, raddrizza ciò che è storto, purifica, rendi luminoso ciò che è oscuro e non cessare di scolpire la tua statua finché il divino fulgore della virtù non risplenderà in te. Eneadi Secondo Plotino, dunque, per migliorare gradualmente se stessi occorre trattare la propria anima come se fosse un'amalgama, una statua, su di essa bisogna agire mediante il tectainen, operando cioè come un artista, tecton, il quale nulla aggiunge o produce, ma al contrario elimina, riduce, cancella. L'obiettivo a cui tende questo lavoro sistematico di alleggerimento consiste nel vivere puro con se stesso, senza che nulla sia mischiato a se stesso nella propria interiorità. Al termine di questo ergon, di questa opera, si potrà conseguire lo scopo a cui tutto il lavoro è stato fin dall'inizio finalizzato, diventare per intero una sola luce, non misurata da alcuna grandezza, non circoscritta da una figura che possa diminuirla, assolutamente priva di ogni misura, maggiore di ogni quantità. la luce pura, splendore pieno, compiuta bellezza. L'idea che la ricerca della perfezione coincida non con l'acquisizione di qualcosa di cui si è privi, ma con la perdita di ciò che è nocivo o superfluo è già in Platone, in un luogo del Fedro che è all'origine del passo delle Enneadi da cui si sono prese le mosse, con una specificazione particolarmente importante. Il paragone con l'artista, il quale opera, togliendo ed eliminando, viene introdotto infatti riferendosi all'atteggiamento dell'amante. Costui non solo adora il proprio amato come una divinità, ma esercita anche una sorta di azione plastica sulla sua anima e sul suo carattere, in modo da renderlo quanto più possibile simile a un dio. Ciascuno sceglie, scrive Platone, il proprio amore e se lo costruisce e se lo adorna come se fosse una statua, per fargli onore e celebrarne i misteri. L'amore dunque non consiste nel riferirsi all'altro come esso è, ma nel trattarlo come qualcosa che va costruito, come oggetto da plasmare, modificandolo secondo un disegno ben definito. In secondo luogo, questa attitudine plastica, orientata alla transformazione, al mutamento di forma del proprio amato, non si esprime mediante un processo di accumulazione, ma al contrario, si traduce in un lavoro di eliminazione e cancellazione, il cui esito sarà appunto il diventare per intero una sola luce. Il film di Matteo Garrone, Primo Amore, argomenta l'assunto platonico plotiniano, ne esplora le implicazioni, ne rende espliciti fino alle conseguenze estreme i presupposti. Il dimagrimento forzato al quale Vittorio sottopone Sonia non corrisponde affatto, come pure è stato scritto, ad una sorta di pervertimento sadico, né ancor meno ad una forma di patologia psichiatrica. Al contrario, nell'insistenza con la quale persuade e obbliga la propria compagna ad accettare una dieta rigorosissima, Vittorio esprime con grande coerenza la convinzione che è alla base della concezione classica dell'Eros. L'amore non è già incontro, mera fusione statica fra due individui per quello che ciascuno di loro è, ma coincide piuttosto con una metabolè, con un mutamento radicale che coinvolge tutto il loro essere, il loro scopo è il conseguimento di una perfezione luminosa. Amare vuol dire non soltanto esprimere un sentimento, investire l'altro del proprio desiderio, possederlo mediante l'unione sessuale. Amare vuol dire soprattutto costruire l'altro, agire plasticamente su di lui, condurlo ad essere ciò che si ritiene e gli possa e dunque debba diventare. Per conseguire questo obiettivo occorre fare come l'artista, esercitare il tectainen e quindi non accrescere o aumentare, ma ridurre, togliere, eliminare. Non aggiungere, ma sottrarre. La bellezza è già dentro di noi. Si tratta letteralmente di portarla alla luce, di farla emergere, cancellando le impurità, scrostando le brutture che la occultano, in modo che essa possa risplendere in tutto il suo fulgore. Si tratta di agire con i corpi come l'artigiano agisce con l'oro. Come il monile prezioso balza fuori una volta che sia stato distrutto l'involucro vile dentro il quale esso aveva preso forma, allo stesso modo la compiuta perfezione dell'amore potrà essere raggiunta solo quando ogni impurità corporea, ogni condizionamento di grandezza e misura saranno stati rimossi. il graduale dimagrimento di Sonia coincide con una sorta di itinerarium ad perfezionem nel quale la meta finale appare tanto più vicina quanto più esangue è il suo colorito quanto più avvizzito è il suo corpo come un fiore ripiegato su se stesso dice di lei il fratello quanto più livido è il funereo biancore delle sue membra e a questo punto di vista la vicenda descritta nel film ricalca da vicino con assonanze talora impressionanti quella contenuta in uno fra i miti più enigmatici e perfino inquietanti del grande repertorio greco-latino nei quali è più evidente l'influenza della matrice platonica come Vittorio anche Pigmaglione è sospinto da una inflessibile ricerca della perfezione dall'indisponibilità ad accogliere qualunque compromesso dalla refrattarietà ad accettare le donne per quello che esse sono in carne ed ossa nella loro irredimibile mediocrità come Vittorio anche Pigmaglione sogna allora di costruire una donna che corrisponda al proprio anelito verso l'assoluto entrambi artigiani orafo uno scultore l'altro entrambi agiscono per conseguire il loro scopo non producendo ma cancellando eliminando togliendo per entrambi l'amore non è adattamento all'altro ma creazione per loro come già nelle fonti filosofiche citate l'ergon dell'amante si identifica con il tectainen con l'attitudine a plasmare la propria donna in modo che essa si avvicini all'ideale di un corpo che si accompagna alla testa fin qui nettissimo indiscutibile per certi aspetti fin troppo didascalicamente espresso il debito di garrone rispetto alla filigrana concettuale di ispirazione platonica e neoplatonica come in questi archetipi filosofici anche nel film amore e bellezza e il rapporto fra l'uno e l'altra compaiono massimamente valorizzati in una dimensione metafisica anziché come banali espressioni affettive o pulsionali vittorio non è disposto a subire i limiti entro cui si propone il rapporto con Sonia non accetta l'amore di una giovane donna fiorente un'attività artigianale redditizia una nuova dimora che pure è anche un pezzo di storia come sottolinea la gente immobiliare tutto ciò non lo contiene appunto non lo rende contento altrove lo spinge una inquietudine febbrile una tensione inappagabile vorrebbe che entrambi egli stesso e la sua compagna fossero in grado di ricongiungere il corpo con la testa anziché lasciare che l'uno resti indietro rispetto all'altra o che questa sopravanzi quello vuole costruire qualcosa agire sul rapporto con la sua donna come l'orafo agisse con l'oggetto della sua arte pretende dall'amore da un amore che sappia esprimersi come Ergon come ricerca inflessibile dell'aurea perfezione che ciascuno nasconda in sé quel compiuto riscatto che altrimenti resterebbe precluso secondo le parole di Plotino Vittorio vorrebbe che attraverso l'amore Sonia diventasse luce pura senza peso lieve diventare Dio anzi essere Dio in questo passaggio nel rigorosissimo percorso che conduce alla conclusione del film si registra tuttavia lo scarto più drastico rispetto alla matrice platonico-plotiniana a differenza dell'itinerario salvifico descritto soprattutto nelle Enneadi nessuna salvezza attende i protagonisti di primo amore al contrario al culmine della ricerca di una inattingibile perfezione li cogliamo prostrati e definitivamente sconfitti lui bocconi in un lago di sangue lei tremante e attonita non solo la perfezione non è di questo mondo ma non vi è nessun altro mondo al quale riferirsi del quale disporsi in attesa la perdita di peso come metafora di ogni altra e anche più radicale forma di dimagrimento non è strumento di redenzione non consente di accedere ad una compiuta bellezza non è via di accesso alla pienezza della luce è pura perdita dispendio non risarcibile autoconsumazione senza altro scopo che non sia il proprio tendenziale annullamento nessuno splendore emerge dalle membra rinsecchite di Sonia ma solo la macabra luce della morte già allusa nella suggestiva citazione iconografica della deposizione del Mantegna cancellando ed eliminando esercitando il tectainen sul corpo di Sonia Vittorio non ha procurato affatto come pure avrebbe voluto una superiore pienezza per entrambi ha semplicemente anticipato quel processo di decomposizione che il corpo di Sonia come quello di ciascuno di noi è destinato a subire ha reso più prossima incombente la morte senza che alcuna luce sia giunta a squarciare il buio angoscioso che avvolge le ultime sequenze del film al di là delle sbarre che cingono ermeticamente la sua abitazione nella cupa solitudine segnata dalla sua ossessione Vittorio coltiva un ideale di assolutezza che non libera e non redime che non conduce allo splendore supremo ma porta piuttosto al cospetto del volto orribile della gorgone ciò che nella matrice neoplatonica vale come avvio di un percorso che conduce e si risolve in un mutamento di piano dal sensibile all'intellegibile dalla terra al cielo dall'esilio alla cara patria e che dunque ha il carattere di un vero e proprio processo di redenzione nel film di Garrone resta inchiodato alla dimensione di un dramma umano a cui è fin dall'inizio precluso ogni sbocco trascendente ogni conclusione consolatoria questo dunque l'esito dell'amore del primo amore di cui si parla nel titolo di questa assorta meditatio mortis di quell'amore che è primo non perché coincida con un esordio assoluto dei due protagonisti nel campo dell'eros ma perché tende a proporsi come esperienza totalizzante come esclusione di qualunque altra cosa non sia adesso riconducibile amore primo perché su tutto comanda e su tutto si impone perché tutto a sé subordina nell'anelito di una compiutezza irraggiungibile amore primo insomma o meglio ancora amore del primo ricerca di un principio introvabile ansia di qualcosa che resta comunque al di là dell'orizzonte rispetto a cui naufraga dolorosamente ogni umana speranza per raccontare questa vicenda al tempo stesso umile e sublime eroica e miserabile comunque struggente nella sua tragica sincerità Garrone ha deliberatamente scelto uno stile narrativo perfettamente adeguato alla storia un modo di dire disadorno e diretto fino alla brutalità alleggerito di ogni indugio pleonastico anorressico come la protagonista dell'opera uno stile costruito sulla sottrazione e la cancellazione anziché sul pure semplice accumulo letteralmente ridotto all'osso come l'artigiano di cui parlano Platone e Plotino come Pigmaglione come l'orofo Vittorio come l'innocente Sonia anche Garrone opera per via di eliminazioni successive lasciando che la macchina da presa partecipi direttamente al processo di spoliazione al quale è sottoposta la protagonista e ne finisca coinvolta le inquadrature che si succedono il sonoro in presa diretta lo straziante sottofondo musicale della banda Osiris non costruiscono ma piuttosto scavano scolpiscono demoliscono quanto più avanza la storia tanto più dimagrisce Sonia tanto più le immagini diventano sbilenche oblique ellittiche mentre Sonia si rattrappisce in una magrezza funerea illuminata da una luce gelida che esalta i vuoti e ingrandisce i segni del digiuno il linguaggio diventa sempre più scarno punta direttamente all'essenziale prescinde ogni organicità sintattica per trascinarci ruvidamente al tragico epilogo allo scomposto corpo di lui alle membra rannicchiate di lei questa dolorosa via crucis priva di qualsiasi apertura alla speranza segnata dalla consapevolezza della radicale impossibilità di ritrovare altro senso che non sia quello impresso in una condizione umana costitutivamente e irrimediabilmente derelitta si consuma su uno sfondo naturale che ne ricalca e ne riflette i tratti più intimi quello scorcio della campagna vicentina che si stende ai piedi dei colli berici in un paesaggio che Albert Camus aveva definito il più bello del mondo nella quiete assorta e senza tempo di una natura lontana da ogni convulsione metropolitana lì in quella sorta di Eden reso malinconico da una luce tenue che accarezza appena i contorni dei prati e degli alberi si ripete una vicenda in cui si riassume l'esperienza del vivere la tensione verso una impossibile perfezione il ripiegamento tragico all'interno dei limiti inesorabili segnati dalla morte di un'interno di un'interno Grazie.